... Sentenza a sorpresa per l'omicidio di Via Puccini. L'ex venditorio di aspirapolveri, Tiziano Castellani, è stato condannato a 26 anni. Era stato scarcerato in aprile. Manuel Bortuzzo si è risvegliato e ha subito capito di essere paralizzato alle gambe. Parla il padre del giovane ferito a Roma da un colpo di pistola. Quattro persone ferite, 15 mezzi danneggiati e il bilancio di tre incidenti causati da un camioncino impazzito in Via Flavia. L'autista forse è stato colto da un melore. Tenta di rubare le offerte in chiesa ma viene sorpreso dal parrogo kosovaro bloccato dalla polizia fuori dalla chiesa Madonna del Mare. Ai maxi poster si aggiungono anche i poster più ridotti. Giulio Camber non molla la presa e rilancia il suo allarme sul pericolo cinesi nel porto di Trieste. Singolare episodio nel pomeriggio in Via Carducci. Un uomo fermato dai vigili rifiuta di fornire documenti. Esprimendosi solo in sloveno interviene la polizia. Raccolta di opinioni fra la cittadinanza sulla possibilità di veder sparire la benzina agevolata. Ai più dispiace ma si rifugiano sul rifornimento oltre confine. Telespettatori di Telequattro buonasera ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la sentenza a sorpresa in primo grado per l'omicidio di Nerina Zennaro in Via Puccini. Tiziano Castellani che era stato scarcerato nell'aprile scorso è stato condannato a 26 anni di carcere. Sentiamo il servizio di Laura Bucarella. Verdetto inatteso nel processo per il delitto di Via Puccini, scarcerato nell'aprile scorso, l'ex venditore porta a porta di aspirapolveri Tiziano Castellani è stato condannato in primo grado a 26 anni, 22 per l'omicidio volontario di Nerina Zennaro Molinari e 4 per tentata esplosione. Lo ha deciso oggi il collegio giudicante del Tribunale di Trieste. L'omicidio dell'87enne nel suo appartamento di Via Puccini 32 era stato compiuto usando un battitappeto quasi tre anni fa. Ne era stato accusato il 45enne pordenonese difeso dal famoso avvocato Maurizio Paniz. L'uomo aveva già trascorso due anni in carcere, poi l'anno scorso in aprile il colpo di scena della scarcerazione. Rimaneva infatti in dubbio una prova che doveva collocare Castellani sul luogo del crimine. C'era una discrepanza tra la localizzazione del cellulare dell'uomo e l'orario in cui avrebbe diffuso il gas nell'appartamento nel tentativo di farlo esplodere per cancellare così le prove. Ora un nuovo capitolo inaspettato della vicenda con questa sentenza che riporta l'uomo in carcere. Per Castellani il PM Cristina Bacero aveva chiesto l'ergastolo. Aggiornamento ora sul caso del ragazzo ferito a Roma. Manuel Bortuzzo si è svegliato ed è stato lui stesso a capire la situazione. Mi sento a metà riferito al padre avvalorando le diagnosi dei medici divulgate in questi ultimi giorni. Intanto è stata trovata la pistola dalla polizia, la pistola usata per l'agguato contro il 19enne a Roma. L'abbraccio di istituzioni e sport alla famiglia del ragazzo proposta nel mondo del nuoto gareggiare nel weekend con una M sul braccio. Sentiamo. L'hanno stabilizzato, aperto gli occhi, farla. Lui già si rende conto che non ha gli arti inferiori perché dai medici gli ha detto guardate che non sento, non sento, mi sento a metà. Io sono convinto che queste sono cose che già lui le sa perché qualsiasi persona si rende conto che non sente più le gambe. Il risveglio di Manuel e la consapevolezza di quelle gambe che restano lì, immobili. Le ore drammatiche al San Camillo di Roma raccontano di una prognosi che verrà sciolta domani. Manuel Bortuzzo ha parlato con mamma Rossella, con i familiari, con chi lo ha operato. I medici sono là attorno, ci sono i psicologi che cercano anche quelli della federazione di fargli capire che insomma siamo qua in questa situazione qua. Tutta la federazione è lì attorno, tutti i ragazzi del nuoto sono tutti attorno. È normale, visto che ho scattato anche due foto, nel senso di dire sì. Sono tutti là, sono piantonati là, sono ogni giorno, bevano a ruota, chi uno, chi l'altro. Gli amici restano lì, in corsia, per dare forza a un ragazzo che sognava le Olimpiadi ed ora deve fare i conti con la paralisi. Da una parte la diagnosi terribile dei medici, dall'altra la speranza in un miracolo. Adesso comunque primario ha detto per me no, perché non passa dalle scorse elettriche, da sotto a sopra non passa. Quindi se non passa vuol dire che è in perota. Quindi mettiamocela via, nel senso di dire. Ecco. Voi però avete ancora una speranza? Beh, no, guarda, come si parlava con tutti, la scienza va sempre avanti su questo qua. Negli ultimi 15 anni ha fatto miglioramenti. Intanto la solidarietà è un'onda immensa. Voglio che i genitori di Manuel sappiano fin d'ora, ha detto il governatore Luca Zaia, che per quanto riguarda cure mediche, ricoveri, riabilitazione, interventi sanitari di qualsiasi tipo e livello, il Veneto c'è e ci sarà, sempre. E poi la famiglia del nuoto, da Magnini a Paltrinieri, addetti, tutti in contatto con papà Franco. E dagli atleti la proposta a tutti coloro che sono impegnati in gare in vasca nel weekend. Disegnarsi una M nera sul braccio sinistro, in segno di vicinanza. E poi ci sono loro, i responsabili di quell'agguato maledetto, ai quali la polizia dà la caccia. Franco continua a ripetere, non cerco giustizia, ma qualcuno deve fermarli. Io penso al mio figlio. Quando vedremo le persone in faccia, capiremo. La voglia che non succeda più, questo sì. Che non succeda più, perché la giustizia ha il suo corso. Guarda, io non ho più... Due chiamate sole ho fatto al comandante e in due parole mi ha detto io non mi fermo, vado avanti. Cambiamo adesso argomento. L'autista di un camioncino, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo provocando tre incidenti e danneggiando una quindicina di auto. Quattro i feriti. È successo oggi, dopo mezzogiorno, e siamo in Via Flavia. Vediamo. Una quindicina i mezzi danneggiati, quattro i feriti, uno dei quali trasportato d'urgenza a Cattinara e il bilancio dei tre incidenti provocati in serie poco dopo mezzogiorno sull'asse Via Valmaura-Via Flavia da questo camioncino che dopo aver urtato anche il semaforo è finito contro un albero all'altezza dell'incrocio con via Brigata Casale. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale intervenuta in forze per i rilievi insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. Il conducente del mezzo che ha causato tutti i sinistri potrebbe essere stato colto da malore alla guida non riuscendo a fermarsi per tutto il tragitto. Anche lui è rimasto ferito. Ma andiamo con ordine. Il primo scontro tra il piccolo autocarro e un'auto è accaduto nei pressi del palazzetto. A poca distanza, in direzione Muggia, il camioncino è finito contro due furgoni e un'automobile il cui conducente è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato all'ospedale con un'ambulanza del 118. La folle corse del mezzo è proseguita con il danneggiamento di alcune auto in sosta ed è terminata contro un albero all'incrocio semaforico di via Brigata Casale. Qui sono state tre le auto coinvolte e altri due i feriti finiti all'ospedale. Rallentamenti per oltre un'ora lungo l'arteria. Ancora incidenti, uno scontro avvenuto ieri sera martedì 5 febbraio attorno alle 20.30 in zona area di ricerca che ha visto coinvolti tre asini che hanno causato un incidente coinvolgendo anche due autovetture. Gli animali hanno attraversato la strada colpendo una Suzuki e una Lancia Y le vetture hanno riportato dei danni all'impatto uno dei conducenti è stato ferito in modo lieve e trasportato dunque al pronto soccorso di Cattinara. Purtroppo uno degli animali è morto dopo la collisione la dinamica era al vaglio della polizia molto probabilmente gli animali sono fuggiti da una fattoria nelle vicinanze voleva rubare e portare via i denari dal cestino delle offerte della chiesa ma gli è andata male un cittadino kosovaro delle 76 è stato arrestato dalla polizia per aver tentato di trafugare le offerte per i poveri è successo il lunedì scorso l'uomo ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria ricostruiamo il fatto volevano compiere uno dei gesti più vili di tutti rubare dal cestino delle offerte in chiesa è successo nella tarda mattinata di lunedì scorso un cittadino kosovaro classe 76 residente a Trieste è stato sorpreso dal parroco della chiesa di Madonna del Mare in piazzale Rosmini intento a trafugare coadiuvato da un complice le offerte contenute all'interno del cestino per la raccolta i due ragazzi stavano per andarsene dalla chiesa ma dopo aver trovato chiusa la porta d'uscita principale sono stati raggiunti dal parroco che voleva loro impedire di portare via i denari il prete è stato spintonato e strattonato e i due sono usciti dall'edificio ma la loro fuga è durata ben poco la polizia era già stata allertata e il kosovaro principale autore del furto è stato fermato identificato e arrestato era già noto alle forze dell'ordine ed è stato condotto al carcere a disposizione dell'autorità competente i manifesti con le scritte in cinese i manifesti di Giulio Cabber hanno fatto discutere e non poco tanto che ai maxi cartelloni affissi in questi giorni seguiranno proprio nelle prossime ore altri poster più piccoli ma con lo stesso contenuto Cabber rilancia dunque il tema degli investitori cinesi nel porto di Trieste dopo i 3x6 ora anche i 2,5x2 i poster di Giulio Cabber si incrementano nel numero e variano di dimensione saranno più capillari ma non cambieranno nel contenuto il messaggio infatti sarà sempre lo stesso chi garantisce cosa? un quesito che ha fatto rumore in città nel momento storico in cui parlare della nuova via della seta riferendosi al traffico portuale è molto attuale e discusso in primis proprio su chi saranno gli attori di questi nuovi impulsi economici è noto come gli occhi dei cinesi siano ormai fissi sullo scallo Giuliano ma non solo gli investitori cercano sbocchi sul Mediterraneo e quella di Trieste è una zona appetibile per la sua vicinanza al centro-est Europa ma anche per le condizioni vigenti questo però attira anche le perplessità di chi è intenzionato ad andarci cauto cautissimo verrebbe da dire per evitare di essere schiacciati dal potere orientale risultando in controtendenza rispetto alle posizioni registrate negli ultimi periodi da gran parte della classe politica inoltre la comparsa di questi poster arriva in un periodo inusuale rispetto al calendario consueto a cui è abituato Camber ovvero Pasqua e Natale infine a differenza delle abitudini in questo caso non sono menzionati riferimenti a persone specifiche bensì a un argomento mirato che per il momento però non ha un diretto interlocutore singolare episodio pomeriggio in via Carducci un uomo fermato dai vigili ha rifiutato di fornire i documenti esprimendosi esclusivamente in lingua slovena è intervenuta anche la polizia noi vi facciamo vedere un minutino del video che è circolato e ha fatto anche piuttosto clamore all'interno dei social network e tra i siti internet andiamo a sentire ma me ne briga ma me ne briga ma me ne briga ne asolutamente allora favorisco un documento e me voraste prosciati assolutamente in slovenskom e non in italian la polizia locale la polizia di stag richiede un documento ma me ne zanima ma voraste prosciati altrimenti avremo quest'ora per essere identificati ok ok gremo in quest'ora andiamo in quest'ora prego moro dati pro c'auto che ne radimo le portiamo via noi non si preoccupi ne 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 non ne tega ne mosto dedali ne jes hociam da je in tolma stukaj le invito a seguirci assolutamente ne jes bontal proč auto i di me moraste prosciati slovenskom jaziko non so non si parla italiana siamo in italii si parla italiana bene prego kako ste rekuo siamo in italii si parla italiana bene ne moraste prosciati slovenskom jaziko nge tura forza venga con noi me ne moraste prosciat v italiančini to je prisila forza tura je to to je prisila aha ja ja tra le prime reazioni di questo video quella del consigliere comunale di forza italia michele babuderi quale afferma tutta la mia solidarietà agli agenti coinvolti in questo episodio occorso agli agenti in via carducci ignoro perché siano state richieste all'autore del video le generalità ai documenti della macchina mi congratulo però con gli operatori di polizia locale del comune di trieste e della polizia di stato per la loro professionalità chi pretende peraltro il rispetto della legalità dovrebbe essere il primo a darne esempio proseguiamo ora con l'argomento che riguarda la benzina agevolata con l'ipotesi che l'Unione Europea decida proprio di rimuovere questo regime di benzina a prezzo ridotto per la regione Friuli-Venezia-Giulia andiamo a sentire cosa ne pensano i tre stili penso che sia un beneficio proprio perché siamo ai confini però penso oltretutto la massa va tutto in Slovenia a fare benzina quindi cambia poco per noi se ci tocca la nostra agevolazione sicuramente ne ripagheranno di più le conseguenze i distributori che esistono qua a Trieste penso che Trieste andrebbe agevolata ecco visto che per tanti aspetti non lo è e nel passato anche non lo è stato a livello industriale commerciale eccetera penso che mantenerla sarebbe una buona cosa prima o dopo doveva arrivare questo momento noi triestini siamo penalizzati sicuramente però abbiamo qua la Jugoslavia o ex Jugoslavia che si dica quindi sarà una lotta se ci porteranno i prezzi tanto lo stiamo già pagando non è che in questo momento qua a Trieste vai a trovare tu la benzina agevolata che si dica se sarebbe agevolata è meglio comunque noi usufruiamo di questo beneficio quindi credo che dovrebbe continuare io non posso dire che sia giusto o meno perché non ho i dati però chiaramente dispiace insomma questo è ovvio la comunità ne risente non ne faccio uso perché vado a farlo in Slovenia il gasolio al limite no perché io sto a Mugia a pochi chilometri però penso che non sia giusto dato che noi siamo anche attaccati al confine dopo la gente se non va più in Slovenia che qua dovrebbe essere la regione a incentivare lo Stato a non perdere il suo beneficio ma sempre nel rispetto dei lavoratori che gestiscono i distributori per quel che so negli ultimi anni se ne sono già chiusi tanti così faremo in modo da far chiudere anche quei pochi che sono rimasti a Trieste Prima della pubblicità diamo conto di un aggiornamento riguardo al ferimento di Manuel Bortuzzo leggiamo dal sito di TGcom24 i due sospettati confessano abbiamo sparato per errore sono due ventenni si sono presentati in questura con i loro legali i due ragazzi ascoltati in questura a Roma nell'ambito delle indagini sul ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo hanno confessato si tratta di due giovani di Ciglia di 24 e 25 anni che hanno che hanno ammesso di aver sparato per errore si sarebbero presentati in questura accompagnati dai propri legali uno dei due era stato riconosciuto dal taglio di capelli descritto da alcuni testimoni presenti nel momento del ferimento questo per dare un aggiornamento sulla vicenda noi ora come detto ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria ritorniamo tra poco con altri servizi torniamo in studio con il nostro telegiornale Sertubi rischia la chiusura e nei cantieri cittadini si usano tubi prodotti dalla concorrenza indiana questa la protesta dei lavoratori della storica azienda triestina rivolta però alle norme europee che di fatto la mettono fuori mercato quello che noi fa male è proprio vedere a casa nostra i tubi della concorrenza e noi due giorni fa abbiamo chiesto aiuto proprio perché siamo a rischio chiusura a due giorni dall'allarme sul rischio chiusura della Sertubi i lavoratori sono di nuovo scesi in strada con uno striscione teatro della manifestazione il cantiere a Cegas di via Carducci via Battisti dove fanno notare gli operai si stanno usando tubi della concorrenza indiana la protesta precisano non è rivolta né alla stazione appaltante né a chi ha regolarmente vinto l'appalto ma alle regole che pongono Sertubi in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti c'è stato un bando di gara è stato vinto da elettrostili in maniera regolare perché i prezzi che la concorrenza indiana fa sul mercato sono decisamente bassi fa male disturba abbiamo deciso di fare una piccola protesta senza voler assolutamente dar contro sia da Cegas c'era sia gli operai che lavorano seguendo le regole sono proprio le regole che sono da cambiare a livello italiano e europeo l'anno scorso la Commissione Europea aveva riconosciuto alla Sertubi la trasformazione essenziale del prodotto in azienda ma con le nuove norme sui codici doganali torna fuori mercato e noi ancora di più chiediamo la formazione di categorie di colci doganali che ci permettono di avere il Made in Italy i lavoratori chiedono che l'intervento europeo arrivi in fretta anche per non perdere altre importanti opportunità di lavoro che si profilano per i prossimi mesi in Veneto hanno dei problemi con un agente inquinante nelle reti idriche quindi verrà ristrutturata completamente la rete idrica è un cantiere da 50-52 milioni nei bandi attualmente è prevista l'origine europea quella che noi non abbiamo e quindi ancora più urgente la questione dei codici doganali Caterina Conti coordinatrice regionale della mozione Zingaretti per il partito democratico esprime grande soddisfazione per l'enorme successo in regione proprio per la candidatura di Zingaretti a segretario nazionale del partito andiamo a sentire dunque le sue parole Nicola Zingaretti è la persona giusta ha una credibilità che nessun altro può vantare e soprattutto è riuscito ad avere nei circoli un ottimo risultato prosegue la fase precongruestuale del partito democratico in vista dell'appuntamento del 3 marzo Nicola Zingaretti raccoglie la maggioranza dei voti tra i candidati della segretaria del PD tra i circoli a livello nazionale trionfando sui candidati Martini e Giacchetti un risultato che si conferma anche a livello locale dove il presidente della regione Lazio ha raccolto il 67% delle preferenze e dalla Tristina Catrina Conti coordinatrice regionale della mozione Zingaretti a esprimere soddisfazione per i risultati la mozione Zingaretti è una mozione composita perché noi non abbiamo bisogno di rivalse rispetto al passato abbiamo bisogno di ritrovare una nuova piattaforma e quindi sono diversi quelli che sostengono Nicola Zingaretti chi come me come tanti di noi hanno fatto la minoranza in questi anni e che adesso giustamente rivendicano anche di aver visto alcune cose prima di altri e chi invece ha fatto altre scelte sostenendo Renzi negli anni passati e che adesso riconosce questo bisogno di discontinuità il PD ha dunque l'esigenza secondo Conti di ricreare delle nuove fondamenta per ricostruire il pensiero del partito stesso anche attraverso il dialogo con gli altri candidati io credo che riusciremo a ritrovare unità soprattutto e la capacità di stare insieme per dare un progetto al paese perché il partito democratico ha bisogno anche di rifondare il suo pensiero ha bisogno di affrontare i temi della quotidianità con delle risposte di oggi e non con quelle di dieci anni fa e questo lavoro è possibile farlo soltanto insieme tenendo conto delle culture politiche che stanno alla base del PD ma non solo a quelle guardando anche alla prospettiva di oggi Torniamo dunque a parlare di Porto lo facciamo attraverso le parole dell'assessore comunale alla mobilità Luisa Polli ospite questa mattina di Sveglia Trieste però il Corridoio 5 il Corridoio 8 il Corridoio dei Balcani il Corridoio Adriatico eccetera erano già la visione di collegare il Porto di Trieste con quello che è il mondo asiatico e il mondo diciamo dei nuovi investimenti che sono sempre bilaterali voglio ricordare perché una cosa è l'investimento e la capacità che io ritengo ci sia nella nuova imprenditoria di di saper gestire l'investitore che arriva qua perché altrimenti la medesima preoccupazione dovrebbe esserci su un investitore tedesco su un investitore francese su uno inglese io credo che il passaggio prioritario è dare certezza a coloro che possono venire a investire a Trieste per creare le famose opportunità di lavoro quindi la certezza verrà data quando io so cosa posso fare e in quanto tempo lo posso realizzare perché se io sono un investitore vengo a investire fior fior di milioni in in un'operazione economica ed è chiaro che ci deve essere una certezza una linearità del percorso burocratico amministrativo quindi la variante è sicuramente il primo atto perché in questo momento diciamo vige la variante di Portovecchio ma secondo me in realtà è una zona bianca cioè una zona in cui non si può fare niente perché essendo stato sdemanializzato non posso fare ciò che una variante portuale prevede per quella zona attraverso la variante e poi la visibilità che darà a l'area del Portovecchio ESOF 2020 anche se dura una settimana ma tutto quest'anno 2019 e il periodo del 2020 fino a ESOF e poi la diciamo le ricadute che seguiranno a ESOF dal punto di vista della conoscenza dei luoghi credo che darà una risposta concreta non solo agli investimenti ma anche all'aumento della residenzialità e in scena alle Rossetti fino a domenica la ballata di Johnny Gille uno spettacolo di Fausto Paravidino che in qualche modo ripercorre la vicenda biblica di Abramo ma la durata dello spettacolo tre ore pregiudica il risultato finale sentiamo Umberto Bosazzi non regge le tre ore la ballata di Johnny Gille lo spettacolo coprodotto dallo stabile del Friuli Venezia Giulia in scena a Rossetti fino a domenica ed è un peccato perché questa sorta di rivisitazione della vicenda biblica di Abramo scritta e diretta da Fausto Paravidino anche interprete assieme ad altri sei attori molto affiatati avrebbe tutti i numeri per rivelarsi vincente e gli applausi finali comunque meritatissimi sottolineano proprio questo potenziale più che la sua riuscita raccontando la storia di un pescatore e della moglie che ascoltando una voce forse interiore decidono di partire verso una meta non meglio specificata Paravidino incontra molti aspetti del nostro presente i migranti l'11 settembre il consumismo il mito del successo l'utero in affitto tanto per citarne alcuni forse troppi a dire il vero everything but the kitchen sink direbbero oltreoceano e alla fine è paradossalmente questo il limite dello spettacolo volendo affrontare troppi argomenti si finisce per non approfondirne alcuno c'è da sottolineare in ogni caso che l'aspetto multilingue dello spettacolo non disturba affatto e giustamente i sopratitoli traducono solo parte dei dialoghi che l'utilizzo di un gramlo appena accennato ci mette poco a far presa sul pubblico soprattutto quello più giovane e che il primo tempo scorre abbastanza speditamente forse però il miglior commento è stato quello di una spettatrice captato alla fine finché lo spettacolo non ha senso funziona quando cerca un senso non funziona più a sottolineare come il secondo tempo più lineare ad un certo punto perda quella sorta di freschezza che dovrebbe essere la caratteristica dello spettacolo ma che purtroppo evapora man mano che si raggiunge un prefinale narrativamente perfetto ci si arriva però troppo tardi in tutti i sensi è tutto per questa nostra edizione del telegiornale vi ricordo l'appuntamento di domani mattina a partire dalle 7 con Sveglia Trieste ospiti il presidente dell'ordine dei medici Dino Trento invece nella seconda parte dalle 9 e un quarto alle 11 Marco Stabile sarà in compagnia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo a tutti voi una buona serata Grazie a tutti